Nuovamente insieme amici delle auto Quinto della settimana direttamente da via susa 52 pianezza torino queen car uguale paradiso del risparmio apriamo una riflessione ditemi la verità quante concessionarie avete girato per acquistare la vostra nuova automobile e vi hanno risposto che per possederla dovete attendere sei mesi otto mesi dodici mesi e sì signori perché oggigiorno il pronta consegna è veramente difficile ma attenzione perché solo per questo mese mese di settembre presso la queen car avete l'opportunità di avere il pronta consegna vera scegliete una delle 400 automobili disponibili in pronta consegna la prenotate la ritirate due giorni dopo e iniziate a pagarla quando massimiliano? Addirittura a gennaio grazie all'offerta evergreen che vi dà uno sconto fino a 2000 euro grazie incentivi di rottamazione che arrivano fino a 7000 euro di risparmio queen car vi dà la possibilità di scegliere su 400 autovetture benzina gpl e full elettrica vi ricordo anche l'assicurazione all'interno della vostra rata furti incendio la casco e anche la manutenzione ma anche perché oggi le automobili non si comprano per contanti ma si comprano con piccoli esborsi mensili tutto compreso zero pensieri partiamo subito al nostro marchio fiat dove abbiamo tantissime fiat panda la cercate ibrida gpl benzina aziendale tutte in pronta consegna grazie all'offerta evergreen incendivi di rottamazione questa bellissima vettura può essere vostra con un cannone che parte da 109 euro al mese passiamo alla 500 elettrica vettura di tendenza in questo momento ma la cosa importante il risparmio qui alla queen car la portate via in pronta consegna con un cannone che parte da 199 euro al mese guardate quante fiat 500 disponibili in pronta consegna la voletta azzurra la voletta bianca grigio scura cosa importante sempre il risparmio perché queste autovetture le portate via grazie all'offerta evergreen a 129 euro al mese vi ricordo sempre la possibilità di inserire la casco e anche la manutenzione nel vostro cannone e se cercate una fiat tipo nuova chilometro zero aziendale queen car ce l'ha tutte anche la motorizzazione benzina gpl o il turbodiesel pensate la fiat tipo se avete un usato a dare indietro queen car ve lo sopravvaluta e riusciamo a portarla via con un cannone che parte da 149 euro al mese introvabile sul mercato la fiat 500 l 1400 benzina ne abbiamo anche disponibili gpl grazie all'offerta queen car chilometro zero risparmio fino a 5000 euro pensate può essere vostra questa vettura con un cannone che parte da 199 euro al mese fiat 500 x tantissime disponibilità colori motorizzazione in 1000 benzina gpl in 1300 turbo diesel nuove chilometro zero e aziendale ma la cosa importante grazie all'offerta evergreen può essere vostra con un cannone che parte da 159 euro al mese venite a vedere e provare su strada passiamo al marchio lancia dove queen car vi dà tantissime disponibilità pensate motorizzazione benzina ibrida gpl ma la cosa importante sempre la pronta consegna grazie all'offerta evergreen può essere vostra la lancia y con un cannone che parte da 119 euro al mese continuiamo con le super offerte queen car passiamo in casa jeep guardate questo bellissimo renegade 1000 benzina disponibile anche gpl pensate qui il cannone parte da 199 euro al mese jeep compass 1600 turbo diesel 120 cavalli pronta consegna pochissimi chilometri aziendale 229 euro al mese e se cercate anche una full elettrica sempre nella compass pensate qui il cannone di 329 euro al mese passiamo al marchio maindra dove abbiamo la cuv 100 1200 benzina benzina gpl vettura bellissima economica e grazie all'offerta evergreen può essere vostra con un cannone che parte da 109 euro al mese vi ricordiamo anche la garanzia di ben tre anni qui in cara anche in casa mitsubishi ha vetture in pronta consegna guardate questi bellissimi l200 club cab pensate grazie all'offerta evergreen può essere vostro con un cannone che parte da 259 euro al mese e la garanzia qui pensate ben 5 anni sempre in casa mitsubishi non possono mancare le spay star 1200 benzina benzina gpl sempre pronta consegna grazie all'offerta evergreen può essere vostra con un cannone che parte da 109 euro al mese passiamo alle vetture aziendali in casa nissan guardate questa micra benzina pensate con pochissimi chilometri può essere vostra con un cannone da 129 euro al mese sempre in casa nissan il juke motorizzazione diesel gpl ne abbiamo diverse sempre con pochi chilometri e qui il cannone grazie all'offerta evergreen può essere 159 euro al mese possiamo scegliere anche su diversi nissan cascai 1.5 turbo diesel 1.6 sempre con 20 30.000 chilometri e qui il cannone parte da 209 euro al mese sempre vetture aziendali sempre d'occasione capture pensate 1.5 turbo diesel con pochi chilometri qui il cannone è 149 euro al mese e se cercate delle c3 motorizzazione benzina gpl o diesel sempre pochi chilometri aziendali pensate qui il cannone parte da 129 euro al mese diversi renault clio turbo diesel benzina pensate qui il cannone grazie all'offerta evergreen parte da 119 euro al mese passiamo in casa peugeot 3008 motorizzazione benzina anche qui turbo diesel pochi chilometri 20 30.000 chilometri ma la cosa importante è portare via questa bellissima vettura con un cannone che parte da 209 euro al mese passiamo in casa toyota con l'aigo 1000 benzina introvabile sul mercato noi ce l'abbiamo con pochi chilometri e il cannone 109 euro al mese alla queen car non può mancare il marchio opel dove abbiamo l'opel corsa 1200 benzina turbo diesel sempre pochi chilometri grazie alle nostre vetture aziendali pensate il cannone parte da 129 euro al mese qui alla queen car c'è l'imbarazzo della scelta cercate anche un audi un audi a3 cambio automatico queen car ce l'ha con un cannone che parte da 229 euro al mese cercate una mini queen car ce l'ha con pochi chilometri anche qui il cannone parte da 199 euro al mese cosa aspettate venite alla queen car il risparmio è garantito ma avete visto quante automobili ci sono qui presso la sede di pianezza queen car via susa 52 e se non avete visto l'automobile che state cercando fate un salto via susa 52 pianezza torino perché qui le automobili per il mese di settembre sono in pronta consegna chiaramente per chi arriva primo e poi oggi tu scegli l'automobile dopo domani la ritiri e inizi a pagarla addirittura a gennaio vi ricordiamo sempre l'offerta evergreen in uno sconto che va oltre i 2000 euro gli incentivi di rottamazione che arrivano fino a 7000 euro qui alla queen car e grazie a tutte queste disponibilità che sono 400 autovetture che avete visto venite qui scegliete la vettura scegliete il vostro cannone che può partire come nella panda da 99 euro al mese e allora massimiliano è tutto chiaro vero amici le automobili qui da queen car ci sono per davvero in pronta consegna e poi scegliete l'auto scegliete il cannone insomma operazione evergreen l'importante è che voi in pochissimo tempo possiate avere la vostra nuova automobile tanto desiderata tutto questo dove via susa 52 pianezza torino queen car uguale paradiso del risparmio